salve ragazzone allora continuiamo il gameplay di taikatana siamo appena usciti dal carcere di alcatraz ma dobbiamo trovare il modo di abbandonare l'isola su cui carcere si trova vieni perchè non te muovi sembrano essersi nuovamente incastrati ok si sono sbloccati qui c'è una cosa che possiamo distruggere esatto dobbiamo scappare dalla dalla roccia the rock come viene chiamata alcatraz ovvero l'isola su cui il carcere sorge vediamo che ci sono dei prigionieri del carcere che stanno in giro quindi probabilmente anche loro hanno trovato il modo di scappare come noi poi c'è una cosa che fa le pressione e che ammazziamo grazie ai barili esplosivi continuiamo per di qua dove è rimasto superfly dai su vieni i sidekick sono un pochino inutili sono più un problema che altro qui c'è una gemma del salvataggio quindi sappiamo qui ci stanno degli uomini che sparano con il lanciarazzi però credo che si uccidono da sudi ecco dobbiamo fare attenzione a questi con lanciarazzi perchè ci possono fare male questo addirittura vola con jetpack continuiamo qua giù ok speriamo usare questa specie di shotgun effettivamente fa più male c'è qualcuno che ci spara da qua sopra eccolo lo facciamo a pezzi qui c'è un altro c'è una una chiusa sembra e c'è dell'acqua quindi credo che dobbiamo andare a farci un bagno e li vedo una una tuta quella che ci permette di stare solt'acqua vediamo se arriviamo sì questa pezza che ci permette di stare solt'acqua per più tempo oh uno squalo via qua non c'è niente qua nemmeno dobbiamo passare qua sotto altro squalo qui c'è che c'è non è una non è l'interruttore ok passiamo qua sotto qui c'è qui c'è finito l'effetto della dura allora io non so se devo andare qua o con l'ingresso laterale vediamo un po' qua che c'è qua finisce quindi devo andare per forza nell'ingresso laterale ogni tanto dobbiamo riprendere piano squalo c'è pure uno che mi spara da dove tutto stai ecco qua ok mi hanno fatto un po' male però qua sopra c'è dell'energia ok sento della gente che mi insulta mi sento riprendere un'altra volta questa dura ah lo cacchio stavi ok vedo delle strutture che però penso che ancora non posso oh è un altro squadro vediamo qua sotto se c'è la roba non so se sono tornato indietro no ok questo con jetpack ok e c'è in gun oh lì ok quindi forse si qui che c'è l'armatura qua sotto c'è qualcosa però so già al massimo quindi ok ok dobbiamo accucciare per passare qua sotto credo dobbiamo saltare qua sopra eh come c'è arrivo vediamo un po' la seconda energia forse devo entrare da qua chi è che mi ha fatto male è un altro squadro che cazzo si va va qua bisogna entrare qua e passare di qua ce la faccio a saltare fuori? no power up un altro power up la speed qui c'è un romaccione però da qua non riesco a salire alla loro passata tra vanno qua magari questo è finoso forse si deve passare qua sotto acqua probabilmente si ecco qui ci sta per passaggio allora vedo prima se c'è qualcosa qua chiedere o niente entriamo qua dentro qua che c'è questo è quello che vedevo prima qua c'è un power up salviamo salviamo beh avevo aperto la shell nel gioco granate alla cordite vediamo qui mi sa che ritorno in acqua ma qui c'è la scala che mi permette di uccidere uno macione ah e poi si sale ok perfetto un'altra sfera di salvataggio un'altra gemma di salvataggio passiamo a scassare e passare qui sul bordo per andare a prendere penso questi segreti però ci farebbero ritornare lì c'è un'armatura ma vabbè chi se ne frega salviamo un'altra volta continuiamo per di qua ok non è morto potremmo saltare di qua ma anche andare di qua vediamo qua che c'è qua se casca da sotto ah ecco perché mi ha fatto salvare perché adesso devo saltare ok passiamo di qua la qui c'è c'è un segreto ok ripgun com'è ok va bene una specie di shengen passiamo qua sopra abbiamo finito le munizioni vabbè sfondiamo questo prendiamo un po' di roba passiamo per di qua ci buttiamo qua sotto vediamo qua che c'è vediamo qua che c'è c'è della roba armature nuova cell saranno le munizioni per qualche arma che ancora non ho torniamo torniamo indietro entriamo qua dentro death to hero ok sciaurano la morte ok continuiamo per di qua vediamo a questo punto dove c'è una porta che posso aprire guardate qui c'è un'altra porta che devo aprire entriamo dentro questo che sembra una specie di ascensore che ci porta dove ci siamo separate dai nostri amici ritorniamo tutto giù dove abbiamo fatto la prima immersione ecco di qua usciamo e quindi possiamo proseguire per di qua ecco qua passiamo su queste palacche ammazziamo questo omino lì che c'è in acqua allora lì c'è qualcosa qui c'è qualche segreto sicuramente fatemi vedere che c'è lì in acqua da sagare uno squalo semplicemente uno con lancia a razza e via finito le munizioni della pistola allora qui dato che questo molto probabilmente ci affetta io salvo ho fatto scattare un esplosivo che ha fatto esplodere tutto riproviamo ok ok passiamo per di qua e da arriviamo ho trovato un segreto ho trovato un segreto passuccio posso arrivare non ancora però socio ah ma va fassulo dove stai va fassulo passiamo per di qua saliamo sopra altro rumore di sorici no questa non la posso distruggere posso premere questo interruttore che solleva questa cassa la sposta la portate sotto probabilmente ah ok ci permette di arrivare alla a questa armatura vabbè tutto qua armatura che già avevo comunque vabbè come non detto era solo per trovare un segreto va bene qui c'è non sa niente possiamo andare oltre e completare questo livello tramite questa barca dovremmo essere in grado di lasciare the rock però vedo c'è un'altra barca non c'è parte della presenza è sicuramente sembra più come qualche tipo di attività di attività di attività deve essere una casa per una di queste gange che Cassidy ha detto fa senti nessuno pensi che per qui se è il caso dove è chi è chi chi importa non voglio guardare un peggio ciò ciò importa è che troviamo un rio alla l'arga quindi andiamo 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 prima che che chi sa se è lui il traditore che ci aveva detto Mishima comunque insomma abbiamo trovato due segreti e va bene ci seguono ci separiamo da Anna abbiamo un peccadono a scoglio questo è stato un po' troppo vicino dirò ma è un paio perciò per noi i nostri amici i nostri amici devono pensare che siamo morti per impatto quasi erano quindi cosa ora? prima abbiamo bisogno di orientare e trovare dove stiamo spero che non siamo troppo da Mishima quindi ci siamo separati da Superfly quindi qui ci c'è uno shuttle terrestre che possiamo utilizzare per raggiungere il covo di Mishima ok questo livello è stato abbastanza breve nel prossimo video continueremo a trovare un modo per raggiungere il nascondiglio di Mishima e prendere in qualche modo prendere la nostra vendetta avere la nostra vendetta e utilizzare la Daikatana per sconfiggere il nostro nemico è stato divertente ci vediamo alla prossima ciao